Il tempo per salvarmi di padre Stefano Maria Manelli Fratelli, mentre abbiamo tempo, operiamo il bene. Galati 6.10 Noi siamo chiamati ad operare la nostra salvezza nel tempo di vita che Dio ci dona. A ciascuno viene segnata da Dio la misura del tempo per salvarsi e per meditare il paradiso. Non c'è nessuno che non possa salvarsi se usa bene il tempo che gli viene dato, ma se usa male il suo tempo gli toccherà la perdizione perché non avrà nessun'altra possibilità di salvarsi fuori del tempo già stabilito da Dio proprio per lui. L'uso del tempo è così importante quindi che da esso dipenderà l'eternità di gioia o di dolore, di amore o di odio che avremmo voluto scegliere. Per questo Sant'Alfonso Maria dell'Iguori arrivò a fare il voto di non perdere mai una briciola di tempo e così egli divenne il dottore fecondissimo nella chiesa e secondo lui si può davvero dire che il tempo, in certo senso, è l'atrio del paradiso o dell'inferno. Tocca a me attraversare questo atrio, dirigermi verso la porta del paradiso o verso la porta dell'inferno. Tocca soltanto a me la scelta. Nessuno può sostituirmi in questa scelta, proprio nessuno. San Nilo Abate. Nella storia dell'imperatore di Germania, Odone III, si legge che un giorno si ricò a far visita a San Nilo che viveva nella badia di Grotta Ferrata. L'imperatore voleva donargli ricchi e preziosi regali, ma grande fu la sua sorpresa nel sentirsi rifiutare ogni dono per non perdere il tesoro inestimabile della santa povertà evangelica. L'imperatore allora, confuso e ammirato nello stesso tempo del comportamento del santo, avrebbe voluto che gli chiedesse almeno qualche grazia in particolare o qualche cosa a lui gradita o necessaria. San Nilo però rispose subito, e con occhi luminosi, sì, sì, o re, ho una grazia sola da chiedervi, una grazia particolare, che realmente mi sta molto a cuore, ed è questa. Dovete pensare spesso al vostro ultimo fine. L'imperatore Odone III, ancora giovanissimo d'età, promise di sforzarsi, di pensare alla salvezza della propria anima, e difatti tenne una condotta davvero esemplare. Di lì a poco, colpito da gravi malanni, il sovrano moriva, trovandosi con l'anima santamente disposta e ricca di meriti per le opere buone e compiute in vista dell'incontro con Dio. Come usiamo il tempo noi? Quanti di noi usano bene il tempo pensando al dovere primario della salvezza eterna? È una domanda non oziosa questa. In realtà, difatti, non è forse vero che spesso lasciamo assorbire tutto il nostro tempo di ogni giorno da cose soltanto terrene e sciocche, non raramente da cose pericolose o anche peccaminose. Oggi, specialmente, con tutte le occasioni di peccato a nostra disposizione. Si dice molto spesso di non avere un po' di tempo per le preghiere al mattino e alla sera, per la recita di un rosario e per partecipare a una santa messa o per la vista a qualche ammalato, a un bisognoso, a un povero. Si dice di non avere tempo e intanto si sciupano ogni giorno ore e ore di tempo per gli spettacoli televisivi o cinematografici, per leggere giornali, per divorare fumetti e romanzi, per fumare e chiacchierare con gli amici al bar, per le strade o allo stadio. In questo modo bisogna dire che sono davvero tanti gli uomini impegnati a sciupare buona parte della loro vita, incuranti dello stato della loro anima da salvare per l'eternità, pur dicendosi essi e ritenendosi cristiani, perché svolgono un'attività di lavoro e si guardano dal commettere colpe vistose o scandalose agli occhi degli altri. San Giuseppe Moscati. Quale contrasto però se confrontiamo la vita di questi tali con la vita edificante di San Giuseppe Moscati che non fu né prete né monaco ma un grande medico di Napoli, dedito al proprio lavoro senza risparmio. Questo santo medico infatti iniziava la sua giornata alle 5 del mattino facendo due ore di preghiera, meditazione, santa messa e comunione, ringraziamento, seguite dalle visite gratuite ai poveri nei vicoli della città. Continuava poi la sua giornata con l'insegnamento all'Università di Napoli e le visite mediche che prolungava fino al tramonto, chiudendo infine la giornata con la visita al Santissimo Sacramento e la recita del Santo Rosario. Alessandro Volta. Un altro scienziato, Alessandro Volta, oltre che grande studioso, fu non meno mirabile catechista volontario nella sua parrocchia di Como. Tutto il suo tempo libero egli lo consacrava realmente ad operare il bene di catechizzare i bambini. Per questo sulla lapide della chiesa parrocchiale si legge qui battezzato Alessandro Volta si preparò con la scoperta della pila e facendo il catechismo ai fanciulli a rinnovare la faccia della terra. Ecco due veri cristiani laici professionisti, San Giuseppe Moscati e Alessandro Volta, i quali alla scuola di San Paolo Apostolo realmente e quotidianamente operavano il bene mentre avevano tempo, aiutando il prossimo e edificando tutti i cristiani. Santa Gianna Beretta Molla. Lo stesso potrebbe dirsi di una mamma di famiglia come Santa Gianna Beretta Molla e di due coniugi, genitori come i beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi e di altri due coniugi, i servi di Dio Settimio Manelli e Licia Gualandris, genitori di 21 figli. La salvezza dell'anima e la santificazione si operano nel tempo che Dio ci dona, spendendolo bene nel compimento fedele dei propri doveri quotidiani. Non valga assolutamente per noi il programma insensato che si trova scritto in una enciclopedia della vita pratica di diversi anni fa secondo cui un uomo che viva 70 anni occupa così il suo tempo, tre anni all'istruzione, otto anni alle distrazioni, tre anni alla toiletta, sei anni ai pasti, cinque anni al camminare, tre anni alla conversazione, un anno a servizio militare, undici anni al lavoro, sei anni alla lettura e 24 anni al sonno. Per la vita spirituale, per la preghiera, per l'anima, per il Dio nulla secondo questa enciclopedia. Che razza di vita umana è mai questa? Se la nostra vita deve essere chiusa al futuro, siamo davvero come gli animali? Quale senso avrebbe il nostro vivere umano se tutto finisse con la morte come per gli animali? Chiediamo alla Madonna la grazia particolare di essere illuminati per saper comprendere ogni giorno il valore del tempo, sapendolo usare e far fruttare come hanno fatto tutti i santi, realizzando anche noi il disegno d'amore di Dio per la nostra salvezza e santificazione. Impegniamo costantemente il nostro tempo nel compiere il bene, evitando e lottando sempre contro il peccato che il mondo, il demonio e la carne ci propongono e ci spingono di continuo a fare per la nostra rovina eterna.